Tra i diversi punti all'ordine del giorno, anche un'altra mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale San Cataldese durante la seduta del 27 ottobre. Si tratta della proposta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sulle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, firmata dai consiglieri Davida Lu, Adriano Bella e Cinzia Naro. Con la stessa, come fanno sapere tramite un comunicato stampa, si chiede all'amministrazione di attivarsi per facilitare la nascita delle comunità energetiche nella nostra città, promuovendo l'informazione e la messa in rete dei potenziali soggetti interessati, creando occasioni di confronto sul tema con le scuole, i soggetti imprenditoriali interessati, i quartieri cittadini. E ancora si legge a promuovere un percorso specifico con l'Istituto Autonomo Case Popolari, rivolgendosi al patrimonio di edilizia popolare e ai cittadini che lo abitano come primi soggetti interessati dalla riduzione del costo dell'energia. E poi ancora si pensa alla ricerca di aree marginali e coperture di edifici di proprietà comunale che potrebbero essere utilizzati per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, oltre a valutare altre iniziative che guardino sempre alla produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, esclama il consigliere Davida Lu. Con le comunità energetiche volute fortemente dal Movimento 5 Stelle, oggi i cittadini, attività commerciali, imprese, denti pubblici e privati possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite. Si tratta, prosegue, di un'importantissima occasione per risparmiare sulle bollette e contribuire a una rivoluzione energetica e ambientale che può finalmente partire dal basso.